Il progetto nasce nel 2016 quando la regione Sardegna inserisce nel piano delle infrastrutture la rete ciclabile come la mobilità ciclistica, come fattore strategico per la pianificazione della regionale. Successivamente quindi si è partiti con la redazione del piano e nel 2018 il piano recentemente proprio a luglio è stato adottato dalla regione Sardegna. La rete ciclabile consentirà quindi con questa infrastruttura che collegherà gran parte del territorio regionale, consentirà di defluire quelli che sono attualmente i flussi turistici che sono prettamente situati sulle coste, defluirli quindi anche all'interno nelle zone diciamo più svantaggiate e di integrarli anche con il resto della mobilità dell'infrastrutturazione che è già presente all'interno della regione. Quindi con il piano regionale della Sardegna con la rete ciclabile si spera che appunto a partire dalla prima realizzazione, dalla realizzazione dei primi tratti che diciamo sono già in fase di progettazione, si spera che appunto venga ampliato, diciamo comunque destagionalizzato quello che è attualmente il turismo e venga quindi diciamo, oddio, venga quindi incrementato anche proprio il flusso della, oddio non mi sono perso, il flusso del turismo diciamo venga anche incrementato quello che è già attualmente il turismo della regionale.